Viviamo in un'epoca in cui l'accesso all'informazione da parte di cittadini è sempre più facile, tuttavia questo comporta un rovescio della medaglia. Molto spesso ci si va a imbattere in notizie forvianti, fake news. Quante volte abbiamo sentito parlare di allergia e intolleranza come se fossero la stessa cosa. Lo scopo del CEMAD è quello di essere un faro in questo mare di disinformazione. Ci riproponiamo di farlo anche durante l'attesa di tutti i pazienti che vengono all'interno del centro. Gli ambienti sono stati studiati appositamente per ridurre lo stress al minimo. I colori utilizzati all'interno del centro riprendono i colori del mondo naturale e delle patologie alimentari collegate come ad esempio il bianco dell'intolleranza al lattosio e il color grano dell'intolleranza al glutine. Il CEMAD dispone di strutture innovative come una serie di schermi video wall in cui vengono trasmessi tutti i giorni in rotazione filmati educativi, interviste al personale della struttura, documentari e altri argomenti attinenti al mondo dell'alimentazione. Abbiamo a disposizione anche una serie di schermi multimediali touchscreen nei quali i nostri visitatori possono accedere e utilizzarli per accedere a servizi come ad esempio il BMI, il calcolo del body mass index. In definitiva lo scopo qui al CEMAD è proprio questo, di diminuire questo divaro che si va a creare tra il mondo accademico e il mondo reale dei cittadini in quanto la prerogativa indispensabile per un corretto signo di vita e per una lunga e sana vita è l'alimentazione. Questo naturalmente va anche a impattare nella prevenzione di tutte quelle malattie legate alla sfera gastrointestinale.